Il Ministro ha prontamente risposto alla richiesta fatta da me e dal Presidente delle Marche Acquaroli di affrontare questo tema della pericolosità dei cantieri sull'A14 e più in generale della fragilità di questa struttura. Questo tavolo lo porteremo avanti insieme alla struttura tecnica del Ministero e ad Aspi con l'obiettivo di rimodulare questi cantieri. Ci serve anche da parte del Ministero degli interventi sulle norme che oggi costringono a fare troppi cantieri tutti insieme e il risultato è che quando si fanno troppi cantieri tutti insieme per eliminare un rischio potenziale si crea un rischio molto concreto che produce morti sulle nostre strade. Io ne ho approfittato in questa occasione per tornare a rilanciare il tema della terza corsia perché questa autostrada è troppo vecchia. Quando bisogna fare interventi di manutenzione è necessario, non c'è lo spazio fisico per fare altrimenti che non chiudere i sensi di marcia. Dobbiamo pretendere che anche l'Abruzzo possa avere infrastrutture degne del XXI secolo con strade, autostrade, ferrovie capaci di sostenere il traffico e di permettere a cittadini e aziende di poter vivere e prosperare sul nostro territorio. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!